ciao a tutti bentornati nel canale di studio 72 oggi andremo a vedere come animare un'immagine in vettoriale ossia su vari livelli su adobe after effect prima di tutto però vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto ed ora passiamo al nostro tutorial bene prima di iniziare appunto ad usare after effect dobbiamo aprire il nostro illustrator dove appunto apriremo il nostro disegno in vettoriale e quello che dobbiamo fare è assicurarsi che ogni parte del nostro disegno sia su un livello come ad esempio come vedete io c'ho la scritta in un livello il braccio in un'altra e lo sfondo dietro in un altro livello una volta che avete appunto unito i livelli in modo da comporre il vostro disegno lo andiamo a salvare nel formato appunto di illustrator quindi facciamo file salva con nome e ci assicuriamo che sia appunto in adobe illustrator io ora non lo salvo perché ce l'ho già salvato ora possiamo tornare sul nostro after effect facciamo una nuova composizione 1920x1080 facciamo ok ed ora andiamo a importare il nostro progetto appunto creato prima su illustrator quindi andiamo a importare appunto il nostro progetto questo qua appunto in illustrator e qui facciamo importa come composizione mantieni dimensione livelli quindi facciamo apri lui ci andrà a creare appunto una nuova composizione e qui abbiamo i nostri tre livelli perlomeno nel mio caso sono tre se voi ne avete di più comunque vi troverete tutti i livelli che siete andati a creare su illustrator quindi li selezioniamo li portiamo all'interno della nostra composizione io per comodità importo anche l'immagine originale in modo da importare all'interno della mia composizione per avere un riferimento appunto di come andare a sistemare la mia immagine quindi questa è la mia immagine finale come deve risultare ora vado a guardare i vari livelli quindi questa è la scritta adesso li vado anche a rinominare in modo da avere più chiaro questo è il braccio e questo che lo portiamo sotto sarà appunto lo sfondo della scritta e del mio braccio quindi ora quello che vado a fare appunto è andare ad adattare le immagini di illustrator all'immagine originale quindi clicco s per aprire appunto la scala vado ad allargare la mia scritta compi andiamo ad aprire appunto la nostra posizione dove l'andiamo a sistemare insomma cercando di farla combaciare il più possibile all'immagine originale e stessa cosa appunto facciamo anche per gli altri livelli bene una volta appunto sistemati i nostri livelli possiamo andare a disattivare appunto la nostra immagine originale poi andiamo a fare un nuovo livello di tinta unita io nel mio caso la faccio bianca la chiamo bg come background la portiamo al di sotto di tutto in modo da avere il nostro sfondo bianco oppure a seconda dello sfondo che vi interessa a voi ora semplicemente avendo i nostri tre livelli separati possiamo andarli ad animare come vogliamo quindi nel mio caso io vado ad animare il braccio quindi vado ad aprire la posizione a un secondo più o meno applico il marcatore mi porto all'inizio e voglio che il mio braccio appunto mi compaia dal basso verso l'alto facendo appunto questo movimento da qui vado a farmi comparire la scritta quindi mi porto più o meno a due secondi vado ad attivare posizione scala e rotazione in questo caso mi riporto su un secondo poi vado a diminuire un po la scala porto la mia immagine al di fuori a destra appunto del mio riquadro gli vado a dare anche una rotazione più o meno di 180 gradi in modo che mi dia questo effetto quindi il braccio sale arriva alla scritta poi sui tre secondi vado sullo sfondo vado ad attivare la scala mi riporto indietro ai due secondi e porto la scala allo 0% in modo che mi faccia una comparsa dietro in questo modo in modo da ottenere bene o male questo risultato dopo questo è un esempio però in questo modo possiamo andare a animare appunto le nostre immagini in vettoriale l'importante che siano appunto divise in livelli in modo da gestirle tranquillamente all'interno di after effect ovvio la stessa cosa non è importante che sia in vettoriale può anche essere un'immagine di photoshop dove possiamo andare appunto a separare i vari livelli quindi teniamo l'immagine del pugno l'immagine del braccio su un livello la scritta su un'altra eccetera eccetera e facciamo la stessa procedura la importiamo invece del formato illustrator apriremo appunto formato photoshop sempre con i livelli a metraggio proporzionale in modo da avere i nostri livelli qua nel se fossero in photoshop appunto avremo il formato photoshop stessa cosa le prendiamo le importiamo e andiamo appunto interagire sui vari livelli per animare la nostra immagine bene questo è tutto per quanto riguarda questo tutorial io vi ringrazio di avermi seguito vi rinnovo l'invito di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto lasciate un like al video se vi è piaciuto commentate per qualsiasi cosa se avete domande o curiosità visitate il mio sito www.studio-72.net e noi ci vediamo al prossimo tutorial ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti